Ciao ragazzi e bentrovati all'appuntamento cinefilo della settimana. Prima di cominciare vi ricordo che dal 12 al 14 ottobre si terrà a Milano il Trailers Film Fest. Se ne avete la possibilità io vi consiglio di partecipare perché si tratta di un evento molto interessante, con corsi, premiazioni, anteprime gratuite, che vi permetterà di passare delle giornate a stretto contatto con un settore molto importante dell'industria cinematografica, come quello appunto dei trailer. Oltretutto l'evento sarò presente anche io, quindi se vi va magari ci fermiamo e facciamo quattro chiacchiere. Inoltre da adesso sono aperte le votazioni per il concorso dei book trailer. I book trailer sono letteralmente dei trailer di libri, quindi dei video di qualche minuto che danno un'idea sulla trama e il tema del libro in questione, sfruttando però il linguaggio audiovisivo anziché quello scritto. Io in descrizione vi lascio il link per votare e in generale un po' tutti i link se volete informarvi sul Trailers Film Fest. Detto questo mettetevi comodi perché oggi voglio indagare con voi alcuni film che al loro interno contengono delle battute che a nostra insaputa hanno anticipato il finale del film. Vi è mai capitato di riguardare un film e di rendervi conto solo alla seconda visione che uno dei personaggi in una scena apparentemente innocente ha detto o fatto qualcosa che si collega perfettamente o in qualche modo anticipa la conclusione della pellicola? Dato il tema del video vi avverto che sarò costretto a fare degli spoiler sui film che ho preso in esame. Vi stupirà scoprire quanti i registi giocano con noi inserendo nei loro film eventi o battute che sono pericolosamente vicini al punto di svelarci il finale della storia. Quasi come dei pazzi assassini che sentono anche il bisogno di svelare la propria identità al detective di turno. E a proposito di Assassini e Pazzi Furiosi, il primo film di questa lista riguarda una vicenda con protagonista uno psicopatico con la passione per la tassidermia e il film in questione è Psycho. Con questa pellicola il maestro Alfred Hitchcock traspone il romanzo thriller di Robert Bloch raccontando la storia di una giovane impiegata che in fuga con il denaro del proprio capo passa una notte in un motel gestito da uno strano ragazzo, Norman Bates. Preso alloggio presso una delle stanze del Bates Motel, la giovane accetta un invito a cena di Norman e così si apre una scena con un dialogo in cui il maestro della suspense mette in bocca al personaggio di Norman Bates tutta la verità sul segreto che custodisce nella cantina di casa sua. Dopo qualche minuto di conversazione, Norman parla di sua madre come di una donna malata che seppur abbia spesso degli sbalzi d'umore eccessivi è del tutto innocua e non farebbe mai male a nessuno. Più precisamente, testuali parole, dice è innocua come uno di questi uccelli impagliati. Tutti quelli che hanno visto Psycho sanno perfettamente che in realtà Norman ha ucciso sua madre da tempo ma nella sua follia ha tentato di mantenerla in vita impagliando il cadavere. È evidente che con quella frase Hitchcock ha segretamente anticipato tutto il finale del film. Passando oltre, Christopher Nolan è un regista piuttosto noto per i suoi trips psicologici ed elementi che rivestono un significato simbolico all'interno delle sue narrazioni. Né il Cavaliero Oscuro, Il Ritorno, ultimo capitolo della trilogia sul supereroe di casa DC, uno di questi elementi non è un oggetto, bensì un personaggio vero e proprio, il cui interprete indirettamente ha acceso in tutti noi un campanello d'allarme su quale fosse il suo vero ruolo nel corso della storia. Fin da quando è stato annunciato che Marion Cotillard avrebbe interpretato una parte nel film di Nolan, penso che tutti si aspettassero che il regista avrebbe utilizzato il talento di quest'attrice per una parte molto particolare. Per questo, durante il corso della visione, penso che tutti avessimo i nostri dubbi su quale fosse la vera identità di Miranda Tate, che sembrava un personaggio troppo poco importante e troppo poco presente per affidarlo a una come la Cotillard. Oltre a questo, altri fatti del film evidenziano quanto il ruolo del personaggio nasconda qualcosa, come per esempio il suo interesse per Bruce Wayne e la sua società, oppure l'inspiegabile trattamento di favore che Bane riserva a Miranda quando fa irruzione nella sede della Wayne Enterprises. Visto che stiamo parlando di Christopher Nolan, passo subito a un altro film di questo regista, The Prestige. A quanto pare, Nolan fa fatica a tenere per sé le anticipazioni sul finale dei suoi film e questo non è mai stato così evidente come in questa pellicola. The Prestige, in breve, racconta la storia di due giovani illusionisti che ben presto intraprendono un gioco crudele per stabilire chi dei due sia l'illusionista migliore. Come tutti sappiamo, l'incredibile trucco del trasferimento che Alfred compie di fronte a un Robert che non riesce a dare alcuna spiegazione logica di quanto ha visto, in realtà è un trucco che l'illusionista ha attuato mediante l'aiuto del suo fratello gemello, di cui Robert e il pubblico ignoravano l'esistenza. Dopo aver assistito allo spettacolo, Robert si reca dal suo maestro, John, per raccontargli quanto ha visto, definendo quel numero di magia come il migliore che abbia mai visto. Ma di fronte allo stupore di Robert, che non riesce a spiegarsi in alcun modo quell'illusione, John mantiene un atteggiamento calmo e divertito, sostenendo che un numero simile è possibile solo ricorrendo al trucco più vecchio del mondo, ovvero utilizzando un sosia. Alla nostra prima visione, nessuno di noi poteva sapere che quelle parole dovevano essere prese alla lettera. A proposito di battute da prendere alla lettera, Spider-Man 3 è un'altra pellicola che ha anticipato il suo finale. Nel 2002, Sam Raimi ha dato avvio alla saga cinematografica di Spider-Man, che si è protratta fino ad un terzo e disastroso capitolo, in cui il nostro eroe, oltre a fare i conti con il criminale colpevole di aver ucciso Zio Ben, è alle prese con un costume alieno e la genesi del supercriminale Venom. Come se tutto ciò non fosse abbastanza per un unico film, Raimi ha proseguito anche la storyline con Harry Osborn, il quale attacca Peter Parker dopo aver scoperto la sua identità e il laboratorio segreto del Green Goblin. Questa scena di inseguimento si conclude con un brutto colpo che Harry prende alla testa, causandogli una perdita di memoria. In ospedale, Harry, dimentico che il suo miglior amico è in realtà Spider-Man, riceve la visita di Mary Jane e Peter, tornando in ottimi rapporti con loro, e dopo questa visita, un'infermiera gli dice che ha dei buoni amici. Al che Harry risponde, i miei migliori amici, darei la vita per loro. Tutti quelli che hanno visto il film sanno perfettamente che è esattamente quello che farà nella battaglia finale contro Venom e l'Uomo Sabbia. Infine, l'ultimo film che ho scelto per questa lista è Shutter Island. Tratto dal romanzo di Dennis Lee Hain, il film di Martin Scorsese racconta la storia di Teddy Daniels, un detective che, insieme al suo socio, viene incaricato di condurre delle ricerche in un manicomio criminale, dove una paziente è scomparsa. È importante sapere che nel finale veniamo a conoscenza che, in realtà, il detective è un paziente del manicomio che ha ucciso sua moglie dopo che lei aveva annegato i figli, un trauma che la mente del detective non ha sopportato, costringendolo ad elaborare una fantasia in cui lui non è un omicida. Per assecondare questa fantasia, i dottori elaborano una messa in scena, sperando che questo porti Teddy a fare i conti con la realtà dei fatti, ma per assicurarsi che tutto vada liscio, il dottor Sheehan, interpretato da Mark Raffalo, viene incaricato di seguire passo passo il suo paziente, lasciato libero per il manicomio. Questo personaggio è uno dei segnali che qualcosa non va nella storia che Scorsese ci racconta. Difatti, quando i due detective giungono alle porte del manicomio e viene chiesto loro di consegnare le armi, Sheehan è visibilmente in difficoltà nel rimuovere la fodera della pistola dai pantaloni, il che è molto strano considerando che si tratta di un poliziotto. Inoltre, il socio di Teddy più volte sembra ostacolare la sua indagine piuttosto che sostenerlo nelle sue ipotesi, insinuando in noi, come in Teddy, la possibilità che il personaggio non sia chi dice di essere. A questo aggiungo anche che è insolita anche l'intera situazione entro cui si svolge la storia. Parliamo infatti di due detective che, in quanto rappresentanti della legge, si presume abbiano piena libertà d'azione, ma nei fatti capita spesso che i medici non assecondino le loro richieste, come per esempio quella di controllare il padiglione più pericoloso del manicomio, che resta per loro off-limits, addirittura costringendoli ad entrarci di nascosto. Bene ragazzi, quindi, spero che la mia lista vi sia piaciuta. Ora voi con un commento fatemi sapere se conoscete altri film contenenti delle battute o degli eventi che hanno anticipato il finale. Come solito vi ricordo di passare anche dal mio canale personale, Lorenzo Signore, in cui settimanalmente troverete recensioni di film passati in uscita. Io vi auguro di passare un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Io vi auguro di passare un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.